Buongiorno e ben trovati a questo ultimo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Allora iniziamo subito con le prime pagine dei quotidiani regionali, partiamo dal centro, quella che vedete alle mie spalle è l'edizione di Pescara, il titolo di apertura ha scoperto l'uomo steso sui binari a Montesilvano, decisive le immagini e le testimonianze adesso e caccia ai complici. Andiamo nel taglio alto per vedere le altre notizie, inchiesta sul parco di Lanciano da Alfonso Indagato svela l'atto che può smontare l'accusa e poi mobili in Abruzzo, case e il mercato delusato spinto dai prezzi bassi. Scendiamo adesso a centro pagina, nella fotonotizia il concerto offerto dal comune il primo maggio sarà con il rapper Pechegno. In concomitanza con il nuovo singolo uscito a mezzanotte scorsa, Gue Pechegno ufficializza su Instagram la data del concerto gratuito che il primo maggio terrà a Pescara, organizzato dall'assessorato al turismo ai grandi eventi a cura della Best Events. Poi nelle cronache il calcio di Serie B alle 15, la partita del Pescara, Pillon lancia il Pescara a Palermo con coraggio. Il giorno del debutto a Pillon il compito di risollevare i biancazzurri sprofondati a un passo dalla zona play out oggi a Palermo alle 15, il terzo allenatore della sciagurata stagione del Pescara va a caccia dell'impresa contro il rosa nero di Tedino, Brugman ce la fa in difesa a spazio a Fiamozzi e Fornasieri in attacco Mancuso, Pettinari e Capone. Naturalmente colgo anche l'occasione per ricordarvi l'appuntamento di oggi con Diretta Stadio con Andrea Costantini dallo studio e Paolo Renzetti in diretta da Palermo per seguire appunto la partita del Pescara Diretta Stadio che inizierà attorno alle 14.30 subito dopo il Tg6. Andiamo avanti ancora sul quotidiano il centro, Pescara valori ancora alti, smog, nuova emergenza, l'arta aria scadente, la città è tornata a respirare smog, da alcuni giorni le centraline di rilevamento degli inquinanti fanno registrare valori delle polveri sottili di nuovo alti, non ci sono stati dei superamenti ma i valori indicati mercoledì e giovedì scorsi si avvicinano alla soglia di guardia. Ancora vandali in azione, popoli presa a sprangate, la macchina del sindaco. Andiamo a vedere di spalla nello spazio da leggere le piste aperte dove si scia oggi e domani in Abruzzo e poi l'Abruzzo Verde, il Cammino dei Briganti e altri itinerari nella natura. Nel Taglio Basso troviamo il Buongiorno Abruzzo come sempre firmato da Giuliano Di Tanna, se cancelli l'amato per non dimenticarlo. Cambiamo edizione, adesso andiamo a vedere la prima di Chieti Lanciano Vasto, sempre sul quotidiano Il Centro, ex operatore Caritas condannato, il titolo di apertura soldi e storti a una coppia che si è rivolta al centro di accoglienza, inflitti 5 anni. E poi andiamo a vedere a centropagina a Chieti la salma di Maria Felicia del Paraguay, resti di una suora beata riesumati da Capasso. Andiamo a vedere nella didascalia il 30 marzo il corpo di sua Maria Felicia Guggiari e Sheverria in Paraguay, nota come Cichintungua, prima beata Paraguay, si trova all'Università d'Annunzio perché vengano sottoposti a studi di antropologia fisica condotti dal professor Luigi Capasso in vista della beatificazione. E poi andiamo nelle cronache a Lanciano, scatta l'allarme morbillo, 6 casi di adulti in 72 ore, c'è preoccupazione per la diffusione tra gli adulti del morbillo, malattia infettiva e sintematica. Negli ultimi tre giorni al pronto soccorso dell'ospedale Renzetti, diretto da Antonio Caporrella, la malattia è stata diagnosticata a 6 persone, colpiti anche 2 infermieri. Andiamo a Vasto adesso con la cronaca, spari contro il ristorante sulla loggia Ambling, 5 colpi di pistola sono stati esplosi nella notte tra giovedì e venerdì contro le vetrine del ristorante Sunrise, il figlio dei titolari della struttura e attivista del Movimento 5 Stelle ed è stato candidato alle ultime comunali. Ancora a Vasto, ancora cronaca, il cane abbaia e fa scoprire il padrone morto da giorni. Andiamo avanti sul centro, cambiamo edizione, passiamo a quella teramana, in apertura la politica comunale, i due poli sono bloccati, Teramo verso il voto, Morra avverte gli alleati, il PD deciderà lunedì le strategie. Proseguiamo con lo spazio delle cronache, andiamo a Santomero, Proel investimenti per 7 milioni di Euro, il CEO Fabrizio Sorbi annuncia un piano triennale di investimenti per circa 7 milioni e mezzo di Euro e questo è lo strumento con cui la Proel, la multinazionale di Santomero che produce strumenti e apparecchi musicali elettronici si propone nel prossimo triennio di arrivare a un fatturato di 50 milioni. E ancora un operaio di Roseto sparito da oltre un mese, appello a chi l'ha visto, l'ultima traccia del primo marzo scorso quando sarebbe salito su un autobus per andare a Roma dicendo alla compagna che sarebbe tornato in serata, da allora nessuna notizia di Alfonso De Agostino, operaio rosetano di 48 anni. Passiamo a Giulianova, lettera al comune, la pizzeria cult, tavoli in piazza oppure ce ne andiamo. Andiamo a centropagina, adesso l'incontro con i piccoli giocatori del Montorio, l'ex bomber Pulici racconta il calcio che fu fine settimana teramano per Paolino Pulici, l'ex bomber del Torino, 68 anni e l'ospite d'eccezione di una cena organizzata stasera dal Toro Club Anima Granata. Ieri Pulici ha incontrato i ragazzi e i tecnici della scuola calcio del Montorio 88 e alcuni piccoli giocatori del Cologna. E qui vedete la fotografia. Andiamo sulla edizione aquilana del centro, c'è il titolo dedicato al 6 aprile, il 6 aprile come un venerdì santo, l'aquila la notte più lunga tra disperazione e speranza, decennale si pensa ad un comitato, vedete la fotografia della fiaccolata ormai diventata tradizionale. E poi l'aquila pizzaiolo di 31 anni muore in Venezuela. Grave lutto ha colpito il piccolo centro di Pratadansidonia, la morte di Gennaro Costanzi, probabilmente per infarto nell'isola Margherita in Venezuela dove si trovava per lavoro ha gettato il paese aquilano nello sconforto. Passiamo a Luco dei Marsi, pugni e calci alla madre, un 29enne in manette è stato arrestato per aver aggredito la mamma colpendola violentemente con calci e pugni, un 29enne di Luco dei Marsi è stato bloccato dai carabinieri intervenuti dopo la chiamata di alcuni vicini spaventati dalle grida, il fatto si è verificato attorno alle 23. Passiamo a Sulmona, poche telecamere, salvi furbetti del cartellino. Lasciamo il centro, passiamo adesso alla prima pagina dell'edizione Abruzzo del messaggero, in apertura, D'Alfonso, datemi 1600 ore, il governatore vuole sfruttare fino all'ultimo minuto il suo mandato da governatore prima di diventare senatore full time, è una possibilità che mi concede la legge, ha detto D'Alfonso, prima di firmare 11 convenzioni per borghi e paesi. E poi ancora, Parco della Regione, Villa delle Rose, avviso al Presidente, arriva a conclusione l'inchiesta sul Parco Villa delle Rose di Lanciano, si tratta di uno stralcio, di un'inchiesta aperta dalla Procura dell'Aquila e poi trasmessa per competenza a quella di Pescara. Gli avvisi di conclusione delle indagini riguardano sette personaggi eccellenti, il governatore D'Alfonso, gli assessori Dino Pepe, Marinella Sclocco, Silvio Paolucci e Donato Di Matteo, oltre al capo di gabinetto Fabrizio Bernardini e all'ex segretario politico di giunta Claudio Ruffini, per tutti l'accusa è di concorso in falso ideologico. Andiamo adesso a centropagina, la cronaca, colpi di pistola contro le vetrine di un ristorante vasto nel mirino, un'attività di famiglia, i titolari dicono mai ricevuto minacce. Terremoto nove anni dopo, i parenti delle vittime, l'Aquila crei un luogo della memoria e la richiesta del comitato dei genitori delle vittime, il giorno dopo la fiaccolata in ricordo della tragedia del terremoto. Andiamo a vedere di spalla adesso, c'è la protesta in regione, bus protestano i lavoratori di Tua davanti alla sede di Viale Bovio a Pescara, timori per il passaggio di alcune competenze alla sangritana per quanto riguarda il settore commerciale. E poi nel taglio basso, l'annuncio del capo dello Stato, Mattarella, sarà a Tagliacozzo. Verrò senz'altro già deciso, queste sono le parole del Presidente della Repubblica che accetta l'invito rivoltogli dal sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, con una lettera sottoscritta da 37 sindaci della Marsica per una visita. In questa realtà quasi sicuramente nel prossimo mese di settembre tra le opere in programma dell'amministrazione comunale vi è la sestimazione di Piazza Dante Alighieri dove verrà posizionato un busto dedicato al poeta. Andiamo nel taglio alto adesso per le altre notizie. Chieti, ex operatore assistenziale condannato per estorsione, Giulianova, Pittrice, uccisa, marito e figli accusati anche di abuso edilizio e poi c'è il calcio con il Pescara, Pillon a Palermo. Oggi è il battesimo del fuoco per il neotecnico dei Biancazzurri che affrontano una delle squadre più forti del torneo cadetto. Andiamo adesso a vedere la città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura, i vandali pagheranno i danni, giro di vite nelle scuole superiori per arginare gli studenti incivili. Andiamo a vedere adesso invece la fotonotizia. Teramo nel capoluogo torna all'evento Orti e Giardini, primavera teramana. Il titolo sulla fotografia di spalla, giustizia e politica, Gatti diffamato, condannato il blogger Francia. Poi Teramo al voto, la Lega prepara la terza via tra Gatti e Morra. Sotto la fotografia, la centropagina alla cronaca, era morto in casa da due settimane, Bidello in pensione di 67 anni, stroncato da un malore. Poi nel taglio basso la Serie B col Teramo Basket contro Nardò al Palas Capriano. Niente scherze, i Biancorossi serve vincere. Passiamo adesso ai titoli nazionali, andando a vedere le principali testate italiane. Partiamo dal Corriere della sera, ecco qui il titolo di apertura, Lega e 5 Stelle, freno all'intesa. Salvini, il centrodestra andrà unito al Quirinale e Di Maio punta sul PD, politica Mattarella non pensa a mandati esplorativi, popolarità dei leader, sorpasso su Gentiloni. Ancora andiamo a vedere a centropagina la fotonotizia, Brasile e tensione dopo l'ordine di arresto. La folla difende l'ex presidente, la resistenza di Lula con gli scudi umani. Proseguiamo sulla Repubblica in apertura di Maio al PD, la guerra è finita, intervista al leader 5 Stelle. Scusate, ragioniamo insieme. Nessun veto su Renzi, non voglio andare al voto. Alla Lega di Berlusconi rappresenta il passato, ma il centrodestra tornerà unito al Quirinale. Andiamo avanti, a centropagina anche qui c'è il Brasile, Lula in carcere, la folla si ribella, il crepuscolo dei miti latino-americani. E poi nel taglio basso, oltre 300 feriti nella seconda marcia, Gaza, altro venerdì di sangue, i palestinesi sfidano il confine, Israele spara e ne uccide. Passiamo adesso alla stampa, anche qui in apertura ci sono le consultazioni, c'è la politica interna di Maio, Mossa, Antisalvini. I grillini offrono la presidenza della commissione sul DEF, sul documento di economia e finanza al PD. Centrodestra, vertice unitario, poi insieme al Colle, chiama i capi corrente e punta su Gentiloni per dialogare con i democratici. Andiamo a centropagina adesso, il buongiorno di Mattia Feltri, Roma città fragile, qui vedete una delle tante buche della capitale. Nella capitale ogni due giorni una voragine, 250 mila abitanti a rischio alluvione, radiografia del dissesto. Andiamo sul Fatto Quotidiano, in apertura Berlusconi rimette in riga il centrodestra, i 5 Stelle parlano, pure i coerenziani, la riffa, delegazione unica con Lega e Fratelli d'Italia, questo per quanto riguarda le consultazioni. Andiamo adesso a centropagina, si vola spese dei dipendenti e l'Italia non versa la solidarietà a fare i furbi un possibile buco di 60 milioni di euro per il fondo da trasferire all'Inps per quanto riguarda i guai di Alitalia. Il manifesto adesso, il quotidiano comunista, in apertura il titolo tradizionale sulla fotografia, poligono di tiro. I palestinesi bruciano copertoni per impedire la visuale ai tiratori scelti israeliani che aprono comunque il fuoco, almeno otto morti e mille i feriti. Il bilancio del secondo venerdì di marcia, del ritorno a Gaza e del tiro a segno dei cecchini, l'ONU dice da Tel Aviv parole inquietanti. Diamo nel taglio alto la politica interna, Renzi ci lasci fare o resti segretario? Così Andrea Orlando che è il leader della minoranza del PD che si scaglia contro Renzi per quanto riguarda la strategia da seguire nelle consultazioni. Andiamo su Avvenire, il quotidiano cattolico, il titolo di apertura, una partita a scacchi tra Salvini e Di Maio. Berlusconi accetta la proposta di una delegazione unica nel PD. Martina chiude alla trattativa di governo e il partito Scricchiola, il centrodestra risponde ai 5 stelle facendo blocco unico. E poi ancora il comune di Roma lo fa coprire, subito oscurato, il manifesto contro l'aborto. E poi la sanità, morti evitabili, otite e morbillo uccidono i bimbi a Brescia e Catania, casi che fanno discutere, abbiamo visto che ci sono casi di malattie esentematiche anche in Abruzzo. Il sole 24 ore adesso, il titolo di apertura tassi ogni punto in più costerà 2,8 miliardi. L'aggravio degli interessi per aziende e famiglie con la fine del quantitative easing della Banca Centrale Europea e la stretta monetaria Banca Italia, imprese ottimiste ma cresce la prudenza. Le guerre commerciali si torna sui dazi doganali, Wall Street cede il 3%, Trump alza il tiro sui dazi con stretta da 100 miliardi. Pechino, impossibile trattare, usa norme più severe per le auto estere. Ancora a centropagina l'intervista a Elke Koenig, presidente della Single Resolution Board, difficile la garanzia unica sui depositi. E poi c'è la Telecom, scontro su Tim, il titolo vola a faro sulle dimissioni del CDA. L'indipendenza dei consiglieri dal vaglio della Consob, balzo in borsa, più 6,9% per il titolo di Telecom Italia. Andiamo sul messaggero adesso, torniamo alla politica interna. Centrodestra Unito, avviso a Di Maio, Berlusconi dice sì a Salvini, la coalizione si ricompatta, chiuderà il secondo giro al Quirinale. Movimento 5 Stelle spiazzato, Matteo Sieto esclude, l'incontro sarà in streaming, scontro nel PD sul dialogo con i 5 Stelle. Al centropagina si va in Brasile l'ex presidente contannato a 12 anni per corruzione, Lula si barrica per evitare il carcere, sfida i giudici dalla sede sindacale. C'è poi un'intervista ad Antonio Tajani, 5 Stelle, le intese non si fanno a colpi di diktat, così parla Tajani, presidente dell'Europarlamento. E poi ancora record di voragini, Roma è più fragile, serve un miliardo per sistemare il dissesto idrogeologico della capitale. Il tempo, restiamo ai giornali romani, pure i rom stufi di Roma, meglio scappare negli Stati Uniti, il dossier è permessi più facile, i nomadi emigrano in America, ma è pacchia anche per chi resta capitale da record con 300 campi. E poi ancora il tema delle buche, buche smottamenti, studio sciocco, ogni 36 ore sprofondo una strada alla città dei sette crolli e non dei sette colli. C'è poi l'intervista al sindaco dell'Aquila Biondi, oggi l'Aquila sta rinascendo nonostante l'Unione Europea, dice il primo cittadino per quanto riguarda l'anniversario del terremoto del 6 aprile 2009. Andiamo su Libero, diretto da Vittorio Feltri, lo dimostrano i dati dell'Istat, se la politica dorme, l'economia si sveglia, migliorano consumi e potere d'acquisto, crescono occupazione e fiducia delle imprese, cala il disagio sociale, si ferma pure il crollo dei prezzi delle case alla faccia dei partiti. E poi i nonni del Parlamento, nonni chiaramente tra virgolette, prestigia come Casini, sette legislature senza lasciare tracce e poi una vita nel palazzo senza perdere colpi, questi i due ritratti fatti da Libero. Per quanto riguarda la verità, il titolo di apertura condannati a governare insieme, con le foto di Di Maio, Salvini e Berlusconi, centrodestro unito al Quirinale, malgrado le manovre di grandi vecchie delitti, i numeri e la logica portano ad un solo sbocco, un'alleanza tra Di Maio, Salvini e Berlusconi, altrimenti si torna a votare, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi a centropagina questa foto di Alan Friedman, sputa sentenze Friedman pagato per taroccare le elezioni in Ucraina. A centropagina parliamo di Roma, la raggida, il buono affitto ai clandestini, ben 3,8 milioni di Euro e Rom che lasceranno i campi per le case, anche se senza permesso. Andiamo sul secolo d'Italia, dove si sottolinea l'unità del centrodestra che andrà unito a parlare con Mattarella e poi nel taglio basso il primo piano verso un accordo Movimento 5 Stelle PD, scoop del PD segreto e poi boom di Roma con la Raggi, Roma ormai sotto assedio, Renziani contro Martina nel PD e lotta fratricida. Andiamo sul mattino di Napoli, il titolo di apertura è sulla politica, il centrodestra spiazza Di Maio, ritrovata l'unità dopo lo strappo di Berlusconi, il leader del Carroccio al governo solo con l'intera nostra coalizione. Lega e Forza Italia andranno insieme al Colle, Movimento 5 Stelle, Salvini dica se vuole il cambiamento. Nel taglio alto fermiamo la strage dell'alcol in discoteca, la lettera Il padre di Nico, morto a Positano, non si scambia la vita con lo sballo, i genitori in piazza per chiedere più controlli. Passiamo adesso ai quotidiani sportivi nazionali, vediamo il titolo principale della Gazzetta dello sport con la volata Champions, parla di Biagio, Inter 2 su 2 e C6, il CT ad interim della nazionale. Se fa risultato contro Toro e Atalanta diventa la favorita, la Roma alle 18, intanto affronta la Fiorentina. Nel taglio alto ricarica al Max, Allegri, siamo leoni feriti, non morti, il mio futuro, questione di stimoli. Così l'allenatore della Juventus. Ancora il Milan, le mosse societarie, nuovi ricavi, così il Milan prepara l'esame al UEFA. Scendiamo nel taglio basso, adesso la nazionale, Mancini avanti tutta, scendono le azioni di Ancelotti per la panchina azzurra, avvia il lavoro diplomatico con lo Zenit per la Formula 1, le libere in Bahrain, volano le due ferrali, primo Kimi, poi Seb Hamilton viene penalizzato. Andiamo sul Corriere dello Sport, in apertura Scudetto e poi prove di fuga per la Juve a Benevento, Allegri non nega l'ipotesi di divorzio, restare è una questione di stimoli, dice l'allenatore bianconero. Nel taglio alto, un weekend da campioni, il Manchester City e il Bayern possono già conquistare il titolo, Guardiola prepara la festa nel derby con Mourinho, Henkes prenota la Bundesliga mentre il Saint-Étienne rinvia il trionfo del Paris Saint-Germain. Scendiamo nel taglio basso, scatto di Francesco, Roma all'assalto della Fiorentina di 18, il tecnico Ford incita i suoi, blindiamo il terzo posto. Il nuoto con Federica Pellegrini, nuoto felice anche se non vinco, la Formula 1, Hamilton Shock, occasione per la Ferrari in Bahrain e poi il MotoGP in Argentina, Marquez scappa, dovizioso e ultimo. Andiamo su Tutto Sport, il titolo di apertura, Allegrometro, tiene banco il futuro dell'allenatore tra notizie vere e false, intanto la Juve oggi a Benevento cerca l'allungo sul Napoli, tre fake news, ha detto alla squadra che se ne andrà, sta trattando con club stranieri, ha rotto con una parte dello spogliatoio, le tre verità. Secondo Tutto Sport, dopo la Juve vuole allenare un club straniero, ancora nessuna riunione con la società sui programmi, ci sono stati confronti decisivi con alcuni giocatori. Andiamo nel taglio alto, Toro domani il big match Mazzarri-Inter è anche questione di orgoglio, dopo Gattuso rinnova Cutrone, Suso la clausola e il Napoli spine Milan, obiettivo Berardi per quanto riguarda i rossoneri. Andiamo a vedere le altre notizie, la Serie A e gli altri anticipi, Genova notte da derby, Roma invece attesa dalla trappola viola per la Formula 1, oggi le qualifiche, la Ferrari illumina il GP del Bahrain, il moto mondiale Dovi Lorenzo, alta tensione in casa Ducati e poi il tennis con la Coppa Davis, SPKO, Fognini, Rimedia, ora tutto legato al doppio. Questo per quanto riguarda anche i titoli dello sport nazionale, adesso ci fermiamo per il break pubblicitario che chiude la prima parte della nostra rassegna, prima però andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo 6 e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa per approfondire le notizie dalla nostra regione con le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, allora torniamo alle pagine interne dei quotidiani abruzzesi, dunque torniamo alle notizie che riguardano la nostra regione, partiamo dalla pagina abruzzo del messaggero dedicata alla politica in carico in scadenza d'Alfonso, dice lasciatemi lavorare altre 1600 ore. Il Presidente chiede 100 giorni prima di diventare full time senatore, firmate ieri intanto 11 convenzioni per il restyling di paesi e borghi. La legge mi concede questa possibilità, continua D'Alfonso, non vedo perché non dovrei sfruttarla appieno per il bene comune, una posizione questa che in realtà il Governatore ha tenuto sin dall'inizio. Avvisi al Governatore a quattro assessori per la Villa delle Rose, questa l'indagine che riguarda appunto D'Alfonso ma anche altre persone sulla realizzazione del Parco Villa delle Rose di Lanciano. Andiamo a vedere adesso la prima pagina della città dall'Europa, fondi alle imprese del cratere, la Commissione approva il sostegno da 44 milioni di Euro in linea con le norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato e questa è l'apertura della pagina abruzzo. Le modalità, l'aiuto assume la forma di un credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti iniziali nella zona, per le grandi aziende si limiterà un aiuto per la costituzione di una nuova impresa o l'acquisizione degli attivi di un'impresa chiusa. Per quanto riguarda la restituzione delle tasse sospese dopo il sisma del 2009, anche Lanciotti si schiera contro la restituzione, così il Presidente della Camera di Commercio di Teramo. Per quanto riguarda la religione, i testimoni di Geova si incontrano a Montesilvano per un raduno in programma al Pala di Martin. Nel taglio basso ritroviamo il masterplan, firmate le convenzioni per il recupero di 11 borghi abruzzesi. Anche Silvi ha ricevuto 140 mila Euro per il restauro della porta medievale e della torre di avvistamento in centro. Possiamo andare a vedere insieme il servizio. Grazie a tutti. 4 comuni e di qui al mese di aprile finiremo tutte le concessioni riguardanti tutti i comuni finanziati per circa 15 milioni di Euro. Abbiamo ascoltato i sindaci a valenza storica, culturale, identitaria e turistica, abbiamo messo queste risorse, abbiamo negoziato con loro le procedure e i progetti e adesso partiranno anche gli appalti. Tenete da conto che questo produce valore di collocazione turistica all'Abruzzo, ma anche respiro alle piccole imprese che fanno restauri, recuperi, alle piccole imprese dell'edilizia, perché in Abruzzo partono i grandi appalti da centinaia di milioni di Euro, ma partono anche gli appalti da centinaia di migliaia di Euro. È questo che consente all'edilizia di ripartire. Abbiamo presentato una memoria di tre pagine per chiedere il riesame. L'Abruzzo è al primo posto per quanto riguarda i siti che non fanno parte della proprietà di Enea, perché chi si è collocato al primo posto ad oggi Frascati è di proprietà di Enea, al secondo posto la Puglia è di proprietà di Enea, noi siamo la prima posizione conseguita che non è di proprietà di Enea. Per quanto ci riguarda davvero è una collocazione invidiabile da tutta l'Europa. Battaglieremo per far valere gli elementi del bando che ci vedono a favore. Avete ascoltato anche una battuta sull'esclusione dell'Abruzzo dal progetto Enea per la fusione nucleare, un progetto sperimentale che si è giudicato la città di Frascati. Passiamo al turismo della neve che sulla pagina di primo piano del centro, la stagione più lunga in Abruzzo si scia fino al Giro d'Italia. Campo Imperatore, l'obiettivo è impianti aperti per la tappa del 13 maggio nelle altre stazioni, ultimo weekend in pista. A Ovindoli e Campo Felice sono aperte quasi tutte le piste, alberghi super affollati durante le festività pasquali, party start alla Maielletta dove lo scirocco stoppa gli sciatori. A Roccarazzo si potranno affrontare le discese dell'Aremogna e di Pizzalto, chiuse quelle di Montepratello, cabinomia in funzione anche a Prati di Tivo. Nel taglio basso digitale, corsi di formazione per le piccole e medie imprese organizzate da Confindustria. Passiamo al mercato immobiliare della nostra regione, case usate, prezzi in calo, anche nel 2018, lo dice uno studio di Idealista.it, ma ci sono delle eccezioni come Roseto, San Salvo, Montesilvano, Tagliacozzo e Vasto. Andiamo ancora avanti, nel taglio basso ritroviamo le firme di ieri sulle convenzioni per i centri storici, i finanziamenti legati agli interventi, poi il sindacato in Abruzzo a Pescara, 300 delegati della CISL pubblico impiego. Passiamo alla pagina Abruzzo, l'inchiesta sulla regione, da Alfonso indagato, così smonto l'accusa, la Procura di Pescara gli contesta il falso ideologico su una delibera per 1,2 milioni relativa al Parco Villa delle Rose di Lanciano, ma un atto può dimostrare il contrario. Nel taglio basso la protesta di Forza Italia, Febbo, fondi rurali alle solite aziende, invece poi c'è la protesta dei 5 Stelle, Pettinari, trasporto pubblico fallimentare. Ieri c'è stato un sit-in davanti la sede della regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara, possiamo vedere anche questo servizio. Oggi c'è questo sit-in di dipendenti della tua davanti agli uffici della regione a Pescara, parliamo di dipendenti che non sono iscritti a sindacati e che chiedono meno poltrone, meno incarichi, più lavoro. C'è da dire che l'amministrazione regionale con la riforma ha tagliato le corse del 5%, corse dei pullman penalizzando le aree interne, ha aumentato i biglietti del 15%. Non solo, dalla sera alla mattina parte di questi dipendenti si sono visti sbattuti da Tua Sangritana, che è una società fallimentare, una società che è un nuovo carrozzone e loro non sanno quale futuro ci sarà. O noi riteniamo che le linee commerciali si possono tranquillamente gestire all'interno di Tua separando solamente i bilaggi. Poi contestiamo i troppi dirigenti, le tante poltrone, i tanti sprechi, ci sono circa 100 dipendenti in esubero tra gli amministrativi che sono in ufficio che a nostro avviso dovrebbero andare sugli autobus a svolgere le attività di controllori per le operazioni anti-evasione. Il problema serissimo è che i mezzi continuano a uscire non sicuri, con le spie rosse accese, mettendo a serio rischio l'incolumità dei viaggianti, dei viaggiatori e quindi anche del personale, naturalmente degli autisti, che si devono assumere la responsabilità. Ecco, ci sono tante cose che non vanno, tante cose che non vanno bene, o c'è un'inversione irrotta o altrimenti si rischia anche di privatizzare il servizio pubblico regionale perché non andando bene il pubblico si sta tendando di svendere e di lasciare che entrino privati nella gestione del pubblico e questo a noi non ci sta bene. Avete chiesto un incontro con il Presidente della Regione? Il Presidente non è uscito, abbiamo parlato solo con il segretario, con Enzo Del Vecchio, il quale si è limitato a dare i suoi contatti ai dipendenti della tua. Null'altro, vedremo quel che sarà. Adesso apriamo le pagine di Pescara, sia sul centro che sul messaggero, l'apertura è sullo stesso tema, cioè l'emergenza, inquinamento, smog di nuovo a livelli alti, l'arta dice l'aria è scadente, le polveri sottili hanno sfiorato più volte il limite di sicurezza indicato dalla legge, record di sforamenti registrati dall'inizio dell'anno a Porta Nuova e in periferia. Andiamo a vedere anche, come detto, il titolo d'apertura della pagina di Pescara sul messaggero. L'aria è scadente un giorno su tre, rifondazione cita i dati Arta nei primi tre mesi e sollecita provvedimenti anti-inquinamento nell'area metropolitana. Polemiche sulla recente riapertura di zone chiuse al traffico a Pescara e a Montesilvano. Le auto aiutano il commercio, l'assessore di Carlo, superamenti ancora sotto i limiti di legge, ma pronti a intervenire in intesa con i sindaci del comprensorio. Ricorderete a questo proposito che è stato istituito un tavolo tra i sindaci dell'area metropolitana proprio per coordinare eventuali misure di chiusure al traffico, comunque di limitazione delle emissioni, soprattutto delle auto. Polveri sottili a livelli d'allarme in alcune zone, urgono politiche più efficaci sulla mobilità. Per quanto riguarda l'area di risulta, un piano da rivedere. Secondo i commercianti residenti e ciclisti, infatti, chiedono correzioni su più fronti, più piste ciclabili, sosta a tariffe convenienti e servizi oltre al verde per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dell'area di risulta della stazione centrale. Restiamo sempre sulle cronache di Pescara dal Messaggero. Un primo maggio a tutto rap con Gue Pechegno. Cuzzi annuncia il super ospite del concerto gratuito a Piazza Salotto e farà tappa con il suo Gentleman Tour. Idolo consacrato dei giovani, ha pubblicato ieri l'ultimo singolo, l'organizzazione della Best Eventi. Poi c'è l'attore Edoardo Leo all'Arca, intervista e proiezione del nuovo film doppio evento alle 18.30 e alle 20.30. Continuiamo e concludiamo la lettura delle pagine di Pescara sul Messaggero. Tre comuni accolgono i minori stranieri, Montesilvano capofila del progetto che coinvolge anche Elice e Picciano. L'operazione porterà alla delocalizzazione dei migranti dall'ex artigian luce e alla creazione di una casa per i più poveri. Possiamo andare a vedere anche questo servizio. Abbiamo azzerato la presenza dei cassa e stiamo gestendo direttamente noi i flussi. Abbiamo circa 80 immigrati, prevalentemente famiglie, che sono gestite direttamente dal comune e che partecipano alla vita sociale della città lavorando, queste persone lavorano gratuitamente per il comune. Ma la nostra progettualità ci ha consentito di ottenere dei risvolti economici positivi e quindi di ottenere dei rimborsi da parte dello Stato italiano che ci consentiranno di realizzare circa una quarantina di posti letto per gli italiani montesilvanesi che versano in gravi difficoltà economiche. Quindi l'accoglienza che noi abbiamo identificato è quella prevista presso la sede di ex artigian luce sul Corso Umberto a Montesilvano che attualmente sta ospitando i migranti. È una struttura dove noi abbiamo realizzato sia la mensa per i poveri che l'emporio solidale e diventerà il polo della solidarietà per tutti i cittadini di Montesilvano. Elice e Picciano hanno deciso di sposare insieme a noi, insieme al comune di Montesilvano, il progetto Sprar. Anche loro entreranno a far parte di questa famiglia e vedranno chiusi i cass che purtroppo portano una serie di problematiche indefinite perché si tratta di gestire la prima accoglienza di soggetti che non conoscono la lingua, che non hanno neanche la minima cognizione di quelli che sono i regolamenti, le leggi, le usanze del posto e che creano spesso problemi. Ancora notizie da pescare dall'area metropolitana, ma torniamo sul centro. Chiude la sede di Via Vezzano, la croce rossa sfrattata dalla provincia, ben servito a 400 angeli del soccorso per un vecchio debito da 25 mila euro. Il presidente Niedu dice noi volevamo pagare. Di Marco si difende, ho soltanto applicato la legge, così il presidente della provincia. E poi ancora, convocato d'urgenza il Consiglio, sì, gli forze di libertà, assurdo chiedere il canone a chi opera da volontario. Ancora multe a raffica davanti al Da Vinci, proteste dei genitori. E poi abbracci, ma non abusi. Bidello respinge le accuse all'anno, la difesa dell'uomo arrestato per molestia ad alcuni studenti del convitto. Il legale chiede di ascoltare anche altri ragazzi. Solo atteggiamenti confidenziali. E poi Muriana promosso, il capo della mobile lascia Pescara per quanto riguarda Piefrancesco Muriana, che è a capo della squadra mobile della polizia di Pescara, che si prepara a lasciare il capoluogo adriatico. Dopo circa 13 anni e mezzo di servizio, è stato promosso primo dirigente. A maggio lascerà la questura. Andiamo avanti alla Pinetina Nord. Nascerà tra un mese un giardino sul mare. Proseguono i lavori nell'area al confine con Montesilvano. primo maggio con il rapper Gue Pechegno. Abbiamo già visto in precedenza l'annuncio del comune di Pescara. Passiamo alla pagina di Montesilvano. Paura alla stazione. Salto sotto al treno in corsa. Individuato dall'autore del gesto, con un video pubblicato sui social, o recaccia i complici, non escluso che abbiano fatto sopralluoghi precedenti. I poliziotti sono convinti che si sia trattato di un gioco o di una scommessa. Andiamo ancora avanti. I ponti sul fiume Saline, tutti aperti entro l'anno. Il direttore dei lavori assicura che l'ultimo cronoprogramma verrà rispettato. Ponte ciclopedonale e via Fossoforeste a breve, ma nei cantieri ci sono pochi operai a lavoro. Proseguiamo con Francavilla. Stop alla tassa di soggiorno. Sì alla videosorveglianza. Il Consiglio rinvia il 1 dicembre l'introduzione dell'imposta e aderisce al progetto finanziato dallo Stato per dare sicurezza al territorio. Poi raccolta dei rifiuti, il porta a porta al 72%. Francavilla la differenziata aumenta del 3%. Presto ci saranno i bidoncini con i microchip. Nella pagina della Val Pescara l'intimidazione popoli danneggiata a colpi di spranga all'auto del sindaco Concezio Galli. Ancora si schianta con la moto da crosse grave appenne l'intervento dell'elisoccorso per un 23enne ricoverato in prognosi riservata. Andiamo a vedere anche questa notizia nel taglio basso. penne 1.607.000 euro di spese per i rifiuti. Passiamo adesso alla pagina di Chieti, sempre sul centro. Estorce Sogli, operatore della Caritas condannato, inflitti 5 anni, un mediatore 45 anni in servizio alla Mater Populi, coppia costretta a dargli una parte della pensione. L'avvocato della difesa è pronta a fare ricorso secondo la sua tesi. L'imputato ha solo aiutato la coppia in difficoltà a sbrigare alcune incombenze. Ancora niente ricatti all'asta. Immobiliaristi assolti. Alvaro Di Prima e il suo collaboratore Rosito escono puliti dal processo perché il fatto non sussiste. Ospedale mobilitato e siamo alla pagina della provincia. Sei casi, 72 ore, allarme morbillo al Renzetti di Lanciano, malattia diagnosticata al pronto soccorso, contagiati anche due infermieri dei pazienti trasferiti a Vasto e a Chieti. Sempre da Vasto, 5 spari contro la vetrina di un ristorante sulla loggia. Indagano chiaramente le forze dell'ordine. Poi nel taglio basso, cane abbaia e fa scoprire il padrone morto a Vasto. Il pitbull cipolla richiama l'attenzione dei vicini. Il decesso del 43enne risalirebbe a 7 giorni fa. Possiamo andare a vedere anche questo servizio. Saranno necessari esami più approfonditi per stabilire le cause del decesso del 44enne di origini beneventane trovato senza vita all'interno dell'appartamento del complesso Il Gabbiano Bianco di Vasto Marina. A dirlo è il medico legale Pietro Falco arrivato nell'abitazione di Via Gregale a sud della città assieme ai carabinieri per una prima ispezione cadaverica. Le condizioni della salma in avanzato stato di decomposizione non consentono di sbilanciarsi. In realtà per come sono le condizioni del cadavere non possiamo dire niente. Quindi da quanti giorni più o meno potrà essere una settimana? Non prima di aver visto con l'esame esterno. Però se ne qualche giorno sicuramente? Sì, quello sicuro. I vicini non vedevano l'uomo da giorni e sono stati proprio loro a lanciare l'allarme segnalando i latrati del pitbull dell'uomo chiuso nel cortile di casa. Si ipotizza che il decesso sia avvenuto almeno una settimana fa per cause naturali. Questa almeno è l'ipotesi su cui sta lavorando il sostituto procuratore Michele Pecoraro. Stai capendo se si tratta di... Probabilmente per cause naturali. Probabilmente per cause naturali? Sì. Quindi questa è l'ipotesi che... Sì, sì. Ok. Andiamo avanti. La pagina di Chieti del messaggero in apertura ripropone la coppia alla fame cinque anni e mezzo di carcere all'ex operatore della Caritas. Poi comune nasce una maxi società già allarme occupazione Chieti Solidale e Teatreservizi verso la fusione critico Raimond ignorate le commissioni. Nel taglio basso il blitz della finanza in casa droga macete pugnale arrestato un giovane aveva eroina Ashish lui minaccia la farò pagare a chi ha fatto il mio nome. Andiamo nella pagina della provincia cinque colpi di pistola contro un ristorante racket una vendetta per quanto riguarda Vasto poi l'abbiamo visto poco fa morto in casa da giorni a Vasto Marine il cane allerte vicini giallo sulle cause per le altre notizie stoccaggio di gas Noab contro Snam ieri partita da Montalfano di Cupello la carovana Noab Abruzzo andiamo ancora avanti sul messaggero e passiamo alla pagina dell'Aquila che mette in apertura chiaramente le celebrazioni per il ricordo delle vittime del 6 aprile del 2009 queste 4000 fiaccole chiedono più prevenzione il filo conduttore del giorno dopo il corteo vogliamo che si evitino altre tragedie le ferite dell'anima le voci le scene una madre grida la sua impotenza il messaggio corale del 6 aprile mai più catastrofi come questa per un sisma la commovente lettura poi dei nomi delle 309 vittime in piazza Vittorini manca ancora un luogo della memoria e questa è la richiesta che si leva da più parti per avere un luogo della memoria del 6 aprile del 2009 la città serve avere un posto un museo dove ricordare ma anche battersi per la sicurezza andiamo nel taglio basso maltrattamenti all'asilo tre condanne al Cip e Ciop le educatrici sotto inchiesta avrebbero agito con pari responsabilità passiamo alla pagina successiva il 6 aprile il non alliversario il domani tante cose realizzate frazioni dimenticate ora un anno decisivo penso a unire i comuni e poi Vittorini da sette crolli e rinascite e quante meraviglie ancora andiamo avanti nella pagina di Avezzano Sulmona Mattarella cari sindaci sarò a Tagliacozzo questo è l'annuncio del Presidente della Repubblica che ha accolto l'invito del primo cittadino ritorniamo sul quotidiano Il Centro nella pagina dell'Aquila ritroviamo ancora diciamo un ampio spazio dedicato alla commemorazione per il non anniversario del sisma grida e silenzio così parla il dolore con tante fotografie e immagini della nottata di commemorazione poi Pizzaiola Aquilano trovato morto a 31 anni Costanzo stroncato da un infarto in Venezuela a lutto nella piccola comunità di Prata d'Anzidonia andiamo avanti sul quotidiano Il Centro Teramon eccellenza Teramana ideato ad Ancarano il guanto che da voce ai sordomuti il progetto della start-up Limix rappresenterà l'Italia in un concorso internazionale sull'innovazione elaborato da due studenti dell'Università di Camerino trasforma i suoni in linguaggio dei segni e poi di spalla verso le elezioni morra non mi presto a derive fantasiose per quanto riguarda il centro-destra e poi diffamazione a gatti condannato il blogger Francia 600 euro di multa e 7 mila tra provvisionali e spese legali nella pagina successiva la Proel investe il 37 milioni e punta a toccare i 50 di fatturato così la multinazionale di Santomero ancora la pagina successiva Silvio approvato il bilancio 2 milioni per la ciclabile elezioni adattere il candidato sindaco concetti pronta la squadra del Movimento 5 Stelle a Pineto i negozianti contro l'aumento della Tari andiamo sul messaggero per aprire la pagina di Teramo a scuola chi rompe paga presidi segnalate i vandali nuova delibere in vigore per i 27 istituti superiori della provincia Teramana e poi la piscina dell'acqua viva apre con prezzi più cari nel taglio basso la Team i sindacati alla D assunti raccomandati a denunciato si chiedono i rappresentanti dei lavoratori nella pagina di Giuliano Varosetto e della Val Vibrata Santoleri nuovi guai per abusi edilizi padre e figlio hanno 90 giorni per abbattere ripostiglio e cucina costruite al primo piano della loro casa entrambi sono in carcere a Castronio con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere della pittrice Renata Rapposelli andiamo a vedere andiamo a vedere la città in apertura delle pagine di Teramo era morto due settimane fa nel suo appartamento Alessandro Finavera 67enne Bidello in pensione stroncato da un molore nella sua camera da letto andiamo ancora avanti Gatti diffamato condannato il blogger Francia abbiamo già visto anche in precedenza per quanto riguarda la politica la Lega prepara la terza via tra Gatti e Morra al termine delle 72 ore di riflessione dalla Meloni non è arrivata alcuna indicazione sul candidato a sindaco la strategia la Lega vorrebbe inquadrare Teramo in un discorso più ampio tra elezioni nei comuni ed elezioni regionali Sottanegliani di spalla Bruzzo Civico alla finestra del centrodestra depurato da Brucchi e Dodo Passiamo alla Team Pela Gatti Scatene il putiferio sindacale contestate le esternazioni della D su raccomandazioni politiche e difficoltà della società ha chiesto un incontro chiarificatore Bracco riprende la battaglia per chiudere il BIM per il consigliere regionale è un ente inutile andiamo in provincia alle superiori i vandali pagheranno i danni giro di vita della provincia nei confronti degli studenti incivili ancora l'impresa la Proil punta 50 milioni di fatturato con investimenti per aumentare le esportazioni e ancora la vicenda dei santoleri Simone non ha fatto ricerche su internet il giallo della pittrice secondo la difesa è stata un'amica dell'uomo ad utilizzare il computer poi sequestrato passiamo allo sport adesso andiamo ad aprire la pagina dedicata al Pescara sul centro Palermo Pescara Pilon vietato mollare al Barbera con coraggio così il neotecnico del Delfino non voglio una squadra chiusa nella propria metà campo alle 15 gioca il Pescara a Palermo per cercare i punti salvezza Brugman ce la fa dentro Fiamozzi e Fornasieri in attacco Mancuso Pettinari e Capone possiamo andare a vedere insieme il servizio che riguarda la conferenza stampa pregara dell'allenatore del Pescara ma innanzitutto voglio dire che Zema è un maestro nel senso che è stato per noi che siamo cresciuti poi lui e Sacchi hanno innovato un po' il calcio in Italia perciò non posso che parlare bene e avere un grandissimo rispetto per il personaggio Zema diciamo che il 4-3-3 ho cercato di proseguire il suo lavoro e di dare degli accorgimenti nella fase difensiva cercare di mettere una squadra equilibrata in campo che abbia compattezza che sappia ripartire però insomma cerco anche di non stravolgere più di tanto perché secondo me a nove partite della fine non è che posso inventarmi io qualcosa è fondamentale questo aspetto secondo me mentale e di come approcci la partita di come devi andare a affrontare l'avversario dal carattere dalla determinazione perché se sei molle difficilmente ti salvi perché ci sono delle squadre che sono abituate a lottare per la salvezza Pescara non è mai stato abituato in questi anni a lottare per la salvezza perciò bisogna far mente locale e essere consapevili che dobbiamo aprirare le partite in questo modo e che squadra hai trovato con una squadra depressa i primi giorni chiaramente ha cambiato Zema cambia Epifani arrivo io c'è un po' di sballottamento è normale che sia così però quando tu puoi i lavori vai avanti la testa va sul lavoro e cominci poi a pensare a mettere la partita è dove io voglio portare la squadra quello che mi aspetto io è una partita coraggiosa perché se noi andiamo lì giochi timorosi li aspetti con le qualità che hanno loro davanti ti fanno male perciò mi auguro che la mia squadra abbia quell'atteggiamento di pressione e di non abbassarsi perché se ci abbassiamo secondo me non facciamo fatica a portare la casa la partita poi non è la mia mentalità stare dietro aspettare vedere che cosa succede non è il mio modo di pensare è chiaro che l'ho preparata guardando l'avversario come si comporta questo sì domani la verifica per me è importante per vedere se tutto quello che noi abbiamo cercato di fare in questi pochi giorni qualcosa viene applicato ho firmato un contratto per questi tre mesi e cercherò in tutti i modi di portare a termine l'obiettivo che ho nella mia testa che è la salvezza una volta che ho raggiunto quello sono l'uomo più felice del mondo mi confermano non mi confermano ma l'obiettivo lo devo centrare non si fida Tedino allenatore del Palermo derby veneto in panchina Tedino non mi fido il Pescara a qualità il tecnico del Palermo è trevigiano come Pillon lo conosco bene è un allenatore bravo e preparato e i biancazzurri sono temibili al Barbera sono attesi 10.000 spettatori andiamo a vedere il titolo sul Pescara anche sulla pagina Abruzzo Sport del messaggero Pillon a Palermo per il battesimo di fuoco il Pescara sul campo di una delle candidate alla promozione in Serie A serve l'impresa l'allenatore entreremo in campo senza paura l'abbiamo ascoltato formazioni in difesa la novità e Fiamozzi a destra nel taglio basso il doppio ex Bortolo Mutti punta sulla cautela in corsa fino all'ultimo per la panchina l'esperto trainer consiglia al Delfino un match di attesa andiamo a vedere anche il resto dell'Abruzzo Sport nella pagina successiva Teramo da domani via al mini torneo per evitare i play out match ball decisivo contro il Renate in casa 6 squadre in 6 punti questo per quanto riguarda la Lega Pro poi c'è il Pescara Calcio a 5 spariscono 20 anni di storia oggi nessuna trasferta a Milano i biancazzurri si ritirano i annascoli non voglio più avere a che fare con questo sport per quanto riguarda il Roseto Basket gli Sharks ora sono in netta crescita il play guardia è l'emblema della riscossa e per la MotoGP di Annone in Argentina per continuare a migliorare torniamo sul centro andiamo a vedere le altre notizie di sport la Serie C domani ci sarà Terra Morenate scatto di Palladini grazie al passaggio alla difesa 3 migliorata la media punti del tecnico ma per arrivare alla salvezza serve una accelerazione intanto cambia l'arbitro nella Serie D l'Aquila l'ex Boldrini sulla via del recupero contro il Matelica una sfida speciale domani allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia andiamo avanti il calcio a 5 stangata per il Pescara 30.000 euro di multa club sanzionato con una pesante ammenda e retrocesso all'ultimo posto di Berardino consigliere della divisione dice grave perdita per l'Italia e per l'Abruzzo in eccellenza domani Real Giuliano va pronto a fare festa a Cupello e pensa già alla Serie D nel taglio basso Lanciano il derby in occasione d'oro domani in prima categoria torna la stracittadina con interessi diversi di classifica nella pagina successiva Roseto Casagrande Ogid pronti a stringere i denti in basket di A2 i due acciaccati ci saranno domani contro la fortitudo Bologna e andiamo a vedere anche il titolo della città che riguarda invece il Teramo Teramo la tua salvezza si decide al Bonolis parte la volata per la permanenza in Serie C le ultime due giocheranno una gara in più delle altre quattro verso la gara contro il Renate alcuni dubbi di formazione per il tecnico del Teramo a sinistra Varas Pietrantonio col primo che appare favorito ballottaggio anche in mezzo al campo tra Ilari e De Grazia assieme a Graziano e qui vedete tutto il percorso delle squadre che si contendono la salvezza diretta e noi ci fermiamo con la rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina l'appuntamento con Mattino 6 è per lunedì alle ore 8 il nostro telegiornale alle 14 alle 19 e alle 23 come sempre e oggi c'è anche diretta stadio alle 14 e 30 circa appuntamento con Andrea Costantini qui in studio con i suoi ospiti e poi dallo stadio Barbera di Palermo Paolo Lorenzetti per raccontarci le emozioni della partita e il dopo gara grazie ancora e buon weekend grazie a tutti